Dunque, domenica 12 maggio andrà in onda la semifinale della ventitresima edizione di Amici di Maria De Filippi e scopriremo i quattro talenti Cioè oddio, chi sa in realtà, ci sono voci che parano addirittura di sei, lo scorso anno erano cinque, insomma fate voi che si contenderanno l'ambito titolo ma senza ulteriore indugio aspettiamo la scicla e vediamo un po' di che coso ho da parlare quest'oggi Sono Riccardo Divigiano e ti do il benvenuto a TG Kiwi il posto portata di cuffia dove rimanere sempre aggiornato su ciò che di nuovo è imperdibile, i mondi della musica e del cinema hanno da offrirci Ehi là, come andiamo amici di amici? Come vi dicevo presigla, domenica 12 maggio avremo finalmente la semifinale della ventitresima edizione di Amici di Maria De Filippi Ora, nell'attesa di questo incredibile evento vorrei ripercorrere con voi cos'è successo nelle carriere dei cantanti che hanno preso parte al programma nell'edizione 2022-2023 ovvero Amici 22 e cioè, quasi un cazzo Ma che diciamoci la verità, al di là dell'Angelina Mango della situazione che ricordiamo in questo momento è impegnata con l'Eurovision diciamoci la verità, tutti gli altri neanche hanno lasciato questa impronta incredibile in quello che è stato il panorama musicale italiano se non per qualche piccolo istante di gloria Ora, giusto per ripercorrere quelli che sono stati i risultati di Angelina Ricordiamo che la cantautrice ha firmato un contratto in di management con Marta Donà e voi direte chi è? È la manager di Mangoni, Cattelan e Michelin giusto per dirne un paio Insomma, dopo la vittoria uscì con un EP che poi, vabbè, è stato certificato con il disco d'oro e uscì con il singolo Ci pensiamo domani che è il risultato una delle hit della scorsa estate con quattro dischi di platino Poi, insomma, è andato al festival di Sanremo tutto bello, è andata di Cristo, ha vinto insomma, una serie di cose bellissime Ma oltre alla Mango giusto per ricordare due nomi Devo ricordarvi di Wax che è sparito nell'ombra, completamente Sì, ha firmato un contratto con la Warner però, insomma, è uscito un EP poi, fine Qualcuno sente parlare di quest'artista oggi? Io no Qualcuno l'ha visto nelle classifiche? Io no Evidentemente la longevità, ecco, degli artisti che escono da sti talent non è propriamente lunghina Troviamo poi Federica Andreani che è all'infuori di un 5-6 singoli 3 nel programma e 2 fuori Non voglio dire che non ci si ricordi ma qui più che fa sciabbia, però E oggi sono cattivo Però vorrei porre un attimo di attenzione sul fatto che, cazzo, sta gente è sparita Vogliamo parlare di altri spariti? Parliamo di Piccolo G Cantautore Alle spalle aveva un passato discografico con Warner Insomma, una serie di altre grandi etichette All'epoca vedeva Achille Lauro nella stessa etichetta come direttore artistico Che poi, vabbè, qua capiamo anche perché lo scorso anno durante i pomeridiani Diciamo che Achille Lauro ha espresso un paio di volte dei pareri positivi sull'artista che la cosa ai tempi puzza un pochino Un po' di favoritismo forse Non lo so, non lo so Vabbè, ha caricato un po' di singoli qua e là e alla fine troviamo il rapper che, vabbè, io mi sento male a chiamarlo rapper perché da fan del hip hop soffro di questa cosa Ricordiamo NDG che, diciamoci, la verità l'unica cosa che veramente degna di nota ha fatto nella sua carriera è stata Panamera Fine Oltre a Panamera NDG che poi sta ragazzo ha fatto sta hit e poi è sparito Insomma, al di là di Angelina Mango morale della favola gli ascoltatori mensili attuali dei citati artisti sono impietosi diciamoci Cioè, la Mango c'ha 4 milioni circa di ascoltatori mensili NDG e Wax in questo momento ne hanno 139 121 mila poi voi vi direte vabbè è andata a Sanremo mostra all'Eurovision ci sa che abbia degli ascolti molto più alti in questo momento è la figlia di Mango la vogliamo buttare su un discorso anche che vabbè può essere effettivamente io parlo però di dati concreti in questo momento sta gente è sparita nell'ombra la Mango ha avuto una crescita incredibile nel tempo ma vabbè andando visto che siamo sotto la semifinale parliamo di qualcosa di più un po' di ciccia concreta di quella che è l'edizione odierna ora partendo dal presupposto che la mia fonte ufficiale della puntata di oggi è mia sorella non per qualcosa ma perché è una fan accanita del programma sicuramente molto più di me fondamentalmente quello che mi è parso di capire è che la Maria fa incazzare quest'anno ma non poco cioè proprio c'è qualcosa che non va quest'anno sembra che prediliga Petit in particolar modo anche perché ci sono un botto di daytime su di lui cosa che boh sembra un po' squilibrata rispetto al trattamento riservato agli altri inoltre c'è anche da dire c'è stato un daytime in cui gli ex concorrenti di quest'anno cioè quelli che sono stati già eliminati hanno detto che fondamentalmente tutti quanti hanno detto che Petit dovrebbe vincere questo è un piccolo dato che secondo me è degno di nota tra le cose scottanti di quest'anno che altro c'è Holden che viene accusato da settimana di essere raccomandato sui social che vabbè è un piacere basta aprire i commenti di un qualunque post di amici è proprio piogge di merda così che la cosa che si ripete negativamente di Holden è fondamentalmente il fatto che nei daytime e nelle gare lui non ci sia mai a sua detta è perché è impegnato ad autoprodursi quindi insomma c'ha un botto di lavoro da fare non c'ha tempo di uscire ora fai parte di un talent nonché programma televisivo capisco che ti devi autoprodurre però non so mettiti le telecamere in studio che sarebbe anche carino secondo me vedere i momenti in studio di uno che si autoproduce se si autoproduce cazzo ma è più bello di far vedere uno che sta lavorando che ha la capacità di farsi tutto lui ma fatelo vedere a sto punto ora passiamo invece al popolo di instagram che è passato da odiare ad amare Sara soprattutto perché è l'ultima portabandiera del non usiamo l'autotune che insomma non per fare boomerismo particolare ma rimane un dato positivo soprattutto quest'anno l'autotune non ha un problema in sé l'autotune è piacevole è uno strumento musicale ha una storia anche banalmente nella musica araba tra l'altro Galli l'ha spiegato più volte in passato e ha una sua particolarità però se tutti quanti si appoggiano perché qua parliamo di appoggiarsi sull'autotune per prendere sonorità che possano essere carine qua c'è carenza di talento ragazzi c'è carenza di talento c'è la ciccia manca c'è proprio poca ciccia parliamoci chiaro io non sento capacità canore degne di nota non le sento ma da una vita in sti cazzo di programmi poi abbiamo appena avuto la mango tu dici da anni beh vabbè forse non è da anni vabbè sono stato un po' io aggressivo però vabbè al di là di tutto apprezzato particolarmente Mida perché io Mida me lo ricordo quando vinse il contest della coca cola era una specie di contest rap e venne spinto dai mischilla ai tempi sembrava un astro nascente della musica rap italiana ora a distanza di tempo sapere che fosse ad amici un po' tristezza me l'ha messa perché perché a distanza di dieci anni penso nella mia testa vi dico la mia onesta reazione quando ho saputo della cosa quando ho scoperto che Mida fosse ad amici ho detto ok qualcosa è nato storto nella carriera di sto ragazzo perché perché sembrava promettente in una maniera allucinante dieci anni fa sembrava stessa per esplodere da un momento all'altro ma nell'ambiente hip hop c'era un po' di rispetto che si andava creando poi sparisce così improvvisamente non ha mai avuto quella botta tale per dire ok mo ci sono mi piglio il mio posto la mia fetta di torta sono qui perché mi sono fatto notare dopo dieci anni lo vediamo ad amici che la scena hip hop e i talent non è che sono andati mai molto d'accordo uno che sembrava far parte della scena hip hop poi salta fuori in un talent e inizia a fare musica pop fondamentalmente che vabbè ormai è la normalità perché si sono mischiati molto i generi però ne lo so il fatto che ha sempre mostrato molta arroganza molta spocchia ora salta fuori che in realtà in qualche day time abbia un animo molto più sensibile di quello che voglia dar a vedere cioè si vede che un artista che è dieci anni che si sbatte una cifra e prova a sfondare senza riuscire che ora meritatamente o no non voglio sbilanciarmi riguardo più che altro umanamente mi dispiace mi dispiace perché quando ti fai il culo così e cerchi in tutti i modi di farti conoscere di emergere di raggiungere un certo livello ma non ce la fai accetti un po' troppi compromessi poi discograficamente e si sente che ne ha accettati tanti musicalmente perché dagli inizi ad oggi si sente quanto è cambiato quello che fa si è visto nei day time quanto la cosa comunque gli pesi ma vabbè ora andando sulle indiscrezioni su Sara e Holden non sappiamo niente perché? perché la produzione non ci ha mostrato nulla a riguardo quindi boh sono voci sì sono indiscrezioni però c'è il sospetto sui social vedo spuntare qua e là nei commenti questa questione ora parlando sempre della produzione che non ha mostrato nulla riguardo delle relazioni alcune sì alcune no si capisce in base a cosa le scelga ci sono Lucia e Aili che a quanto pare stanno insieme però vabbè la produzione non ha mai mostrato nulla sembrava durante la trasmissione che ci fosse del tenero la cosa è saltata fuori appena dopo sono uscite per cui boh questa puntata è diventata fin troppo lunga io vi saluto e ringrazio mia sorella per avermi dato spunti interessanti con cui argomentare quest'oggi vi saluto e dai che tra poco c'è la semifinale grazie